Diamo il via a questa, boh non mi ricordo più quante ne abbiamo fatte di edizione del freelance camp perché ormai è il decimo anno questa millesima edizione del freelance camp in questa location inedita che ha messo a test la nostra capacità, la nostra resilienza la nostra capacità di gestire gli imprevisti, siamo passati dalla fatturazione elettronica, siamo passati dalle complicazioni del lockdown siamo passati dal check in del campeggio e questo ci fa onore perché insomma sono dieci anni che lavoriamo sulla resilienza sulla capacità di adattamento e sulla gestione degli imprevisti e anche sulla pazienza e ne abbiamo sfruttato tutti i vantaggi Benvenuti e benvenute al freelance camp Romagna, il primo freelance camp dell'anno 2021-2022 quindi molti di voi e molte di voi hanno la tessera del club e quindi questo è il primo evento di questo anno di club freelance camp in cui ci saranno tantissime cose, ci saranno un evento di formazione al mese, i nostri zoom club quest'anno con un programma che è veramente un corso a puntate per essere freelance migliori e ci saranno due edizioni online perché per la brutta stagione diciamo non ci sentiamo di impegnarci a rischiare di vederci dal vivo e poi non poterlo fare all'ultimo momento e ci sarà per chi è socio, per chi è membro del club a giugno la festa finale che sarà un altro freelance camping quindi sempre in campeggio ma solo per le persone che sono dentro al club quindi è una cosa ancora più divertente, ancora più amichevole e più bella ma comunque eccoci oggi per due giornate si alterneranno una serie di talk tutti molto interessanti e come sempre naturalmente mi è obbligo ma anche un piacere per me ringraziare le aziende e le persone che ci aiutano a realizzare tutto questo quindi i nostri sponsor, innanzitutto Banca Etica che ci accompagna da diversi anni e che domani sarà insieme a noi per un momento di discussione molto interessante sulla finanza per freelance Siteground che ci accompagna anche lui da tanti anni, ospita il nostro sito e supporta il freelance camp da tempo Ioost di cui abbiamo un nutrito drappello in sala e ne siamo molto felici Fabiana Palù che bravissima, anche lei sponsorizza l'edizione del freelance camp da un pochino Copreno che ci fornisce gli utilissimi ombrellini con cui vi potete ombreggiare in questa mattina molto calda Grazie, grazie per l'ombra Copreno E poi tutti i cosiddetti sponsor tecnici che partecipano e contribuiscono alla gestione e all'organizzazione Innanzitutto vorrei che applaudiste WinRiser Deborah e Filippo che faranno le riprese e produrranno i video che andranno a documentare questa edizione Roberto Pasini, Calamun che produce tutte le grafiche del freelance camp I nostri fotografi Alessandro che vedete, eccolo lì E domani ci sarà Jessica con noi E poi diciamo ci sono ovviamente tutte le persone dello staff di Digital Update Che sono quelle che effettivamente lavorano perché io finalmente quest'anno sono riuscita a sbolognare a loro tutto il lavoro Grazie Silvia, Laura e Simone E grazie anche a Gianluca E fra un pochino sarà con noi anche Miriam Che insieme a me e Gianluca è stata la cofondatrice di questa esperienza Che devo dire, dopo dieci anni, continua ad andare avanti con grande soddisfazione Mi sembra di tutti e di tutte, non solamente nostra Grazie a tutti